Ancora un'iniziativa voluta fortemente dalla Dricesta e stavolta dal cantante della Solidarietà al secolo Salvatore Ragneri che porta avanti un progetto grazie anche alla vendita del suo ultimo disco Ricomincio da 20. Ragneri è rimasto entusiasta della presidente della Dricesta, Olus Carla Panzino. Grazie alla collaborazione con Abruzzo Nomad è stata resa possibile questa iniziativa, un dono di 5 carrozzelle che va però ben oltre il mero gesto. Prosegue infatti il progetto di umanizzazione portato avanti con tenacia dalla Dricesta per l'arredo del reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Testimonial da 15 anni della Dricesta è l'attore e regista Alessandro Preziosi e tutti possono contribuire ai progetti dell'associazione con la donazione del 5 per bille. All'iniziativa erano presenti i medici, i vertici dell'asle di Pescara e le volontarie e i volontari della Dricesta. A noi ci è toccato questo bellissimo incontro grazie agli amici dell'associazione Abruzzo Nomade di incontrare Salvatore Ranieri che è il cantante della Solidarietà. È un ragazzo incredibile, instancabile, infaticabile che con grande generosità raccoglie fondi, scrive canzoni, canta canzoni per realizzare dei progetti. Il progetto che aveva intrapreso 18 mesi fa era quello dell'acquisto di carrozzine per donarle poi in varie strutture. E nello specifico, avendo parlato della nostra attività, lui si è accostato a noi chiedendoci se volevamo donare due carrozzine all'ospedale di Pescara, io mi sono confrontata immediatamente con il dottor Di Luzio e lui ha detto che in effetti avevano necessità per alcuni reparti dell'ospedale e che quindi ben accette queste due carrozzine. Poi, vista anche l'entusiasmo con il quale abbiamo raccolto questa proposta, lui ha donato cinque carrozzine e ha preferito proprio il nostro centro, la nostra associazione, io sono molto onorata della stima che mi ha riservato. Ringrazio il fanscape Abruzzo Nomade per la segnalazione e la bellissima collaborazione di Adricesta perché senza di loro questa donazione non si poteva fare. E quindi è una tappa dove anche oggi verranno destinate delle carrozzine e uno dei tanti ospedali italiani che stiamo facendo. La cosa bella è che tocchiamo con mano dove vanno a finire i nostri progetti. Devo ringraziare anche Media Friends, Mediaset che ci dà la possibilità di promuoverci a livello nazionale e tutte le persone che ci seguono da tutta Italia. E mi sono trovato nella piazza, la piazza più grande della mia storia.